venerdì 19 ottobre 2018 benvenuti un nuovo appuntamento con good morning milano sempre qui per raccontarvi milano la città di milano i protagonisti tutto quello che avviene in questa città lo sapete seguiamo le storie più belle che raccontano e che costruiscono quello che ci piace definire un po il racconto collettivo della nostra città lo facciamo anche perché ogni anno istituiamo un premio si chiamano milano storytelling awards dove lo storytelling non è necessariamente scrivere filmare fotografare qualcosa ma anche facendo un racconto con le proprie azioni e quindi facendo del volontariato facendo dello sport avete già votato nella prima fase chi secondo voi dovrebbe entrare nelle nomination delle nuove categorie dei milano storytelling awards e i voti sono adesso di nuovo riaperti e quindi potete votare devo dare i vostri preferiti e decidere chi vincerà il milano storytelling awards di quest'anno chi sono i nominati quali sono le categorie lo vediamo subito a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Senza pensarci, in realtà, non ci avremmo pensato che il gancio era facile. Parliamo di storytelling, parliamo di raccontare delle storie. E c'è una storia molto interessante, molto bella, di un artista internazionale che ha fatto la storia della musica, che si chiama Amy Winehouse, che ha una bellissima storia. E qualche nostro amico, diciamo, ha pensato bene di scrivere un bel racconto, o meglio, di scrivere un concerto, uno spettacolo, anzi, lo chiediamo direttamente a lui. Sto parlando di Attilio Bergamine, direttore dell'Accademia Poeti Errandi. Buongiorno, Attilio. Buongiorno. E di Lara Morandotti, giornalista, che insieme ad Attilio, appunto, avete scritto questo, che è, come si può definire, uno spettacolo, un concerto raccontato, che cos'è? È un concerto spettacolo. Ok. Dove c'è la parte musicale, c'è una parte, invece, che a spot raccontiamo la vita di Amy Winehouse e poi raccontiamo anche, diciamo così, l'aspetto emozionale riguardante la sua vita e da questo punto di vista ci penserà Lara a raccontare. Ecco, ricordaci solo brevemente un po' che cos'è l'Accademia dei Poeti Erranti. Beh, l'Accademia dei Poeti Erranti è un'associazione culturale di Bucinasco è un'associazione culturale che giuridicamente, appunto, è strutturata in due settori, un settore che è socioculturale e un settore che è invece artistico. Il settore socioculturale gestisce due spazi giochi, ha un servizio di supporto agli studi che è il compitando, poi organizza seminari di vario genere, laboratori per i bambini, corsi di inglese e varie altre cose. Invece da un punto di vista artistico gestiamo due scuole civiche di musica che sono l'Aldamerini di Bucinasco e la Giampiero Prina di... E questa che vediamo qual è? Cosa che vediamo o che scuola è? Questa è l'Aldamerini. L'Aldamerini, ok, abbiamo trovato giù la foto appunto per far capire... Che insomma sono due scuole civiche, giusto? Sono due scuole civiche, una di Bucinasco e l'altra di Peschiera Borromeo. Poi oltre a quello che cosa facciamo? Organizzate anche spettacoli. Organizzate anche spettacoli, produzioni musicali e in quest'anno... Questa volta state anche oltre l'organizzarlo, adesso che voi l'avete fatto... L'avete fatto, sì, una produzione sotto tutti i punti della 360 gradi. Infatti. Ci siamo occupati di tutto, sia di scriverlo che di promuoverlo e portarlo... Che tipo di spettacolo dobbiamo aspettarci? E' uno spettacolo che ha la volontà di emozionare raccontando la storia di questa incredibile artista. Perché è stato davvero un artista straordinario sotto tutti i punti di vista. Sì da un punto di vista musicale ma anche per la sua vita. Perché è stata una vita fatta di eccessi e di contrasti molto spiccati. E poi è anche uno spettacolo che vuole divertire e vuole farvi ascoltare dell'ottima musica. Perché la musica di Amy Winehouse è ottima musica. Cominciamo appunto, ho scritto insieme alla giornalista, Lara Morandotti. Giornalista che in realtà ti sei occupato un po' di tutto nella tua carriera. Però dicevi in realtà che tu hai studiato proprio per scrivere in un certo senso di musica, diciamo. Di comunicazione musicale. Quindi insomma... Quindi alla fine ci sono arrivata, no? In qualche modo a parlare di musica e a trasmettere... La volontà di trasmettere emozioni attraverso la musica e le parole abbinate alla musica. Quindi un mix pazzesco. Insomma, tutte le carte in regola per essere veramente un buon lavoro. Com'è nato questo collobio artistico tra Attilio e Lara? Come le migliori cose per caso. Ah, vedi. Ci siamo scontrati in un corridoio e abbiamo detto... Ah, ciao. E com'è mai appunto Amy Winehouse? Allora, tutto è iniziato con la cantante di questo, del Rehab Gruppo. Sì. Che si chiama Federica Vanacore, che è una cantante molto brava. Che voleva portare in scena, in un piccolo locale di Bucinasco, uno spettacolo su Amy Winehouse. Da lì è nata l'idea di, oltre alla parte, diciamo così, musicale, aggiungere una parte scritta che raccontasse la vita di Amy Winehouse. Quindi abbiamo fatto due spettacoli. Il primo spettacolo era proprio in forma embrionale, con un duo acustico chitarra e voce. La voce c'era Federica Vanacore e la chitarra c'era Paco Martucci, che è l'attuale chitarrista della Rehab Band. Mi sono accorto che secondo me mancava ancora qualcosa per rendere questo spettacolo perfetto. E allora, una volta conosciuta Lara, parlando e riconoscendone le doti come giornalista, come professionista, a quel punto gli ho chiesto, ma perché non mi dai una mano in questo progetto? Ecco, perché appunto, spieghiamo un attimino i vostri due ruoli, quali sono all'interno di questa produzione, perché poi vi ritroveremo sul palco, giusto? Certo, i ruoli sono che io mi occuperò della parte biografica. Cioè, nessuno di due fa Amy Winehouse, diciamo, nessuno di due. No, lei è lì. O meglio, in realtà tutti due lo fate. Esatto, io racconto la vita biografica di Amy Winehouse con aneddoti divertenti e tragici, aneddoti che pochissimi conoscono. Invece la mia parte va proprio a cercare di tirar fuori quella che è la parte emozionale, quindi dove il tema principale è il conflitto. Quindi dei testi che parlano di questo e delle direzioni, insomma, poi non svegliamo troppo, perché però è un momento molto forte, ecco, un momento che fa anche riflettere. Ecco, quello che mi ha avuto, tu dai voce, diciamo, alle emozioni di Amy, di Amy, fai proprio questo. Ovviamente non avendo però degli scritti fatti da lei, cioè non è che avete trovato il diario serieto di Amy Winehouse e letto i suoi pensieri. No, è un ipotesi di introspezione. Chissà che è una roba di venire fuori, chissà che è bellissima roba di venire fuori. Ecco, hai fatto qui un lavoro davvero di dare la voce a una persona che appunto... A un'anima. A un'anima, una persona. Com'è stato questo processo? Molto forte, molto forte, emotivamente provante e quello che, insomma, poi il pubblico dirà. Io ti chiederei se puoi magari darci un assaggio di che cosa potremmo, cioè, ti chiedo di raccontare proprio, due parole su un incipito, so come funziona. Ad esempio che sono una barca alla deriva in mezzo al mare, non so dove andare. Ogni porto mi sembra il più sicuro, ma allo stesso tempo il più sbagliato. Dove devo andare? Ecco, questo è un po' di pensieri che appunto hai dato all'anima appunto di Amy Winehouse. Perché era molto forte e molto fragile allo stesso tempo, quindi era proprio... Sì, era un personaggio che aveva dentro di sé delle contraddizioni incredibili, sia nel bene che nel male. Poi questo lo scoprirete vedendo lo spettacolo. Come è stata la ricerca, infatti? Com'è stato l'andare, credo, ogni giorno a scoprire qualcosa in più di questa grandissima artista? Allora, tieni conto che poi la ricerca storica su un personaggio sempre in generale, arriva fino a un certo punto e poi diventa interpretativa. Perché è quello che abbiamo cercato di fare noi, poi dare un'interpretazione al carattere secondo le sue azioni, i suoi comportamenti e le sue scelte. Ma questo vale per tutti, anche per i personaggi storici antichi, è normale, è logico questa cosa. Per quanto tu possa raccontare per filo e per segno la vita di una persona, poi oltre un tot devi cercare di interpretare tu personalmente, psicologicamente, come si comportava questa persona. E l'idea era appunto, attraverso questo racconto, di cavare proprio le emozioni più profonde di questa incredibile artista. Diciamo bene allora, dove possiamo venire a vedere lo spettacolo di Rehab, l'avete intitolato, un viaggio attraverso la vita di Amy Winehouse. Il sabato 20 ottobre alle 21, quindi un po' prima magari venite, all'auditorio Unfaniana in via Tiziano a Buccinasco. Il concerto è gratuito, quindi avete la possibilità di ascoltare questo spettacolo gratuitamente. È una bella occasione. Il consiglio che diceva appunto Lara di andare un po' prima perché non si trova a posto dopo. È certo, quindi bisogna... È una bella occasione. Le volte che sono stato a vedere dei concerti organizzati da voi all'auditorio, è una roba veramente da curva sud dello stadio. Sì. È sempre pieno nell'uscita. Sì, noi abbiamo fatto sold out tutte le date, spero di fare anche questa volta, però sai, quando si organizzano spettacoli non si sa mai come possono andare a ricordare. Poi se la scarazza ci vuole, quindi insomma, fai benissimo. Ricordaci a Tiglio anche magari la band, la band che avete messo in piedi, o la band che fa appunto, avete chiamato la Rehab Band? Rehab Band. Quindi abbiamo cercato di creare una situazione musicale molto simile a quella che aveva Amy Winehouse. Quindi abbiamo una parte dei fiati con Andrea Ciceri al sax alto e Lorenzo Di Biasi, no scusa, Federico De Zotes al sax baritolo. Quindi poi abbiamo Kevin Lavinia e Elder Diaz come vocalist, ballerini, quindi proprio due ballerini, due performer molto molto bravi, che faranno da coristi e da ballerini durante lo spettacolo. Poi abbiamo Paco Martucci e la chitarra, Gabriele Bertossi al basso, e abbiamo Riccardo Tosi e la batteria e le percussioni. Mentre alla voce c'è Federica Vanacore, che è una cantante davvero incredibile. Insomma, una band di altissimo livello, ma anche con tanti elementi. È difficile vedere band così numerosa, ma sempre la musica viene fatta in casa con un box attaccato al computer, ma quindi è sempre più difficile riuscire a... E secondo me, anzi, l'occasione è per rivedere, ritrovare anche un certo tipo di musica fatta in una certa maniera, vi vorrebbero dire. Sì, abbiamo cercato di ricreare lo stesso sound che aveva Amy, però non scignottando Amy. Cioè, questa non è una copia di spettacoli di... Perché questo è un punto, secondo me, cruciale che bisogna scusare. La sua vita di Amy Winehouse non è la cover band. Non è una cover band. Abbiamo una serie di artisti che interpretano la musica di Amy Winehouse, tenendo conto che sono degli artisti di grandissimo livello, anche i nostri. Quindi ci sarà questo rapporto, quasi... È un tributo nel senso che è proprio una volontà di rendere merito ad Amy Winehouse, dando un'interpretazione che però è personale. Un vero e proprio viaggio, qualcom'è lo spettacolo. Assolutamente. Chiedo entrambi, cosa vi ha colpito di più del personaggio di Amy Winehouse durante la costruzione di questo spettacolo? Inizi tu? Inizio io, beh, senza ombra di dubbio, la fragilità. Viene dipinta come una donna molto forte, in realtà era una donna che aveva una corazza che faceva vedere che sembrava forte, ma in realtà era una donna di una fragilità incredibile. Aveva avuto dei traumi importanti nella sua vita, aveva un carattere anche, diciamo così, molto particolare e tutto questo ha creato veramente un mix che l'ha resa celebre, non soltanto da un punto di vista artistico, grazie alle sue doti che sono davvero incredibili, ma anche per quello che ha fatto nella vita. Anche se spesso viene considerata più per quello che ha fatto nella vita rispetto alla sua parte professionale. Cosa che è sbagliatissima, perché lei ha fatto... C'è la parte di personaggio mediatico, di personaggio famoso, o Fusca in realtà quella della grande artista, della grande cantante? Un pochettino sì, ma non gli dà merito... C'è ancora più grande di quello che... Non gli dà merito fino in fondo, perché è vero che lei ha fatto solo due album, ma ha fatto due grandissimi album, cioè è stato un punto di vista... Questa cosa da pensarci, è che ha fatto solo due album e ne stiamo parlando da tantissimi anni e ne parleremo ancora da tantissimi anni. E questo vi fa capire la grandezza dell'artista. Infatti arriva il fatto che la capacità di graffiare con la sua voce, di arrivare in fondo al cuore con la sua voce, ecco, questa è la sua personalità da cantante, proprio da... Qual è stato il momento invece più difficile per te da poter, diciamo, tradurre in emozioni? Bella domanda! Grazie, uno che fa domanda è un bel... Già la risposta dovrebbe finire qua, grazie. La disperazione, tradurre in parole la disperazione di una persona che poi si lascia comunque morire, perché quello che ha fatto è accompagnarsi alla morte attraverso poi quella che lei considerava la sua migliore amica, quindi la bottiglia, però in realtà, insomma, ecco. E anche su questo ci sarà un po' da riflettere, daremo modo di far riflettere. Stiamo vedendo la locandina dello spettacolo, Attilio, ti chiedo di ricordarcelo anche tu bene, le coordinate, dove, come e perché il spettacolo di sabato sera. Sabato 20 ottobre, ore 21, Auditorium Fagnana, in Via Tiziano 7 a Bucinasco. Lo spettacolo è gratuito, quindi cercate di arrivare un po' prima, perché se no non trovate posto, c'è la possibilità che non troviate posto. Vi aspettiamo numerosi. Ricordiamo appunto ingresso gratuito, ricordiamolo ancora, insomma, non è l'altro scontato. Da questo punto di vista bisogna... Non so da quanto lo conosci, ormai ti glielo conosco da un po', è molto qua, presentaci tantissime iniziative, e lui dà per scontata questa cosa, perché loro sono bravissime, fanno sempre questa cosa, di fare i concetti gratuiti. A quello che dice perché non sono tutti bravi come l'Accademia dei Politellanti, che riesce a fare questa cosa, e molto probabilmente anche grazie a Comune, che è riuscito a mettere in perito questa cosa, vanno soldi così bravi, quindi non intanto non per scontato, nel senso che la cultura si paga caro presto. Infatti, la cultura non mai è riuscito a fare. Emozionarsi non è quasi mai più il problema. Questo è un po' il motto della nostra associazione, perché è quello di offrire servizi socialmente utili ed economicamente accessibili. Questo è quello che c'è in tutto il settore. Sempre più... Una questione di nicchia. Quindi, grazie alle iniziative come questa, invece, dove si porta sicuramente bella musica, fatta da gente brava, e una storia comunque che può essere anche di ispirazione per altri, perché comunque... Un sabato sera che fa emozionare, riflettere e divertire. Infatti, quindi... Perché faremo anche divertire. Si vede a fare la giornalista, insomma, vedete com'è brava a darvi le motivazioni giuste per andare sabato sera all'auditorio Fagnale di Bucinasco a seguire e a vedere lo spettacolo Rehab. Siamo quasi in chiusura. Ricordiamo le coordinate, però, per seguire anche tutti gli altri eventi che fate durante l'anno. Il sito è www.apemusica.it, è il sito della Scuola Civica di Musica, mentre www.associazioneape.it è il sito dell'associazione. Poi c'è la pagina Facebook dell'Accademia dei Poeti Erranti, la pagina Facebook della Scuola Civica Aldamerini di Bucinasco e la pagina Facebook della Scuola Giampiero Prina di Peschiera Borromeo. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che abbiamo un'altra data, che è il 16 di febbraio al Teatro De Sica di Peschiera Borromeo, un teatro bellissimo, meraviglioso. Anche lì... Adesso è un po' presto, poi torneremo per... No, no, torneremo sicuramente. Torneremo per fare... Ah, quant'altro? Lara, stai già lavorando sul prossimo spettacolo? Oh! Eh, non si svelano queste cose. No, vabbè, non volevo parlare di salire al Teatro per dirvi, fatelo perché secondo me ce n'è bisogno, per dire. Secondo me, davvero, vedo già... Sua fiducia, ve lo dico, ma perché so quali sono gli elementi in campo, insomma, quando gli elementi sono buoni l'addizione funziona bene, insomma, quando gli ingredienti sono buoni la ricetta viene bene, no? Quindi... Ti aspettiamo, no? Ti aspettiamo, ti aspettiamo a te tutti. Grazie mille per l'invito, non mancheremo. E davvero, allora, vedi, ci vedremo sabato sera, alle 21, all'auditorio Unfagnana di Bucinasco, con lo spettacolo Rehab, vediamo un'ultima volta la locandina, Cristina Sacelari al volo, grazie mille. Eccola qua, la locandina di Rehab, 20 ottobre alle 21, vi ricordo, andate un po' prima perché l'ingresso è gratuito, quindi ci sarà da veramente sgomitare per trovare posti. Ci speriamo. Tanto, se ci sto porzitato, non vi dico a Teglio cosa fa. Tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, perché giustamente un po' di sana self-control. Va bene, io a Teglio ti ringrazio davvero tantissimo di essere qui con noi oggi. Grazie a te. Grazie di averci portato Lara, Lara grazie mille di essere venuti con noi, complimenti davvero per il vostro lavoro, non mancherebbe di venire a vedere e poi a raccontare quante cose belle avremmo visto. Assolutamente. Grazie mille a voi, grazie mille anche voi che ci avete seguito. Prima di lasciarvi, vi saluto, ma vi lascio con i nominati dei Milano Storytelling Awards nelle nove categorie in gara. Votate, potete ancora votare fino alla settimana prossima. Il voto è semplice, milanoawards.it o comunque sul nostro sito internet trovate il pulsante per votare. Votate perché il 16 novembre al teatro Guanella faremo la serata finale in coronazione di chi ha vinto i Milano Storytelling Awards. Grazie mille, arrivederci e a presto. Grazie mille, arrivederci e a presto. Grazie mille, arrivederci e a presto.